Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Andiamo! E ha super snappo questo, ha snappetto! And tidy per favore! Voglio il bot! Calmi, 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 calmi! Ehi! 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 Morto! Quell'altro! Dal bush è da dentro il bush Nettuno, da dentro il bush eh! 90 gli ho fatto! Lo pushiamo? orco diaz calmo calmo lui dovrebbe fare rest per rest mettuno infatti lo resta vai termi su tiri su e deve lanciare pure un bunker quando le more però ti bussha ti bussha ti bussha tutti i nuovi italiani sono francesco laura zio leo ci sa laura comunque su cala ora su camille cazzo troia me ne frega vogliono la parità si prima di vaffanculo si ma no troia troia è normale nel senso cioè non è neanche un insulto così eccessivo oramai porco diaz apri tiktok son più le troie che quelle normali quindi è un po un dato di fatto non deve non devi aprire tiktok e le del v3 e tra sono dentro devo andare porca potere parca traia amore mio c'è vetturo si le valenze prima gioco io 1 v2 ex erona vincere tutto no no ma io ho amore mio grazie e tu non mi devi dire prego quando dico amore mio grazie non faccia le cose non faccia le cose scusi xuder aspetta scusi xuder cosa hanno detto ti abbiamo distratto noi aggiungiamo una chile signori 3d5 signori 3d5 le facciamo mi chiamano il cecchino mi chiamano buonasera andiamo mi hanno distratto aveva ragione anche lei giovi allora intanto subito qua e andiamo là difficile fede ma te pensi veramente che a me me ne frega un cazzo di rancare dimmi un po' non mi interessa niente io mi sto divertendo sto passando la mia giornata con nettuno e sto passando la mia giornata con i ragazzi in chat a me sei ranco se non ranco se muoio se vinco non me ne frega niente quindi c'è vivi la vita in maniera un po' più civile esatto kill calm e che troppo abbiamo fatto? avevamo il veicolo sulla strada di nettuno si lo so abbiamo anche la semplice ok scion sarebbe tanta roba nettuno non si muova galera puttana Sergio vai il bravo Sergio vai il bravo Sergio e prendi il cazzo Sergio a Sergio ma vattene a pigliar il cuo troppo forte il corvo buona così intanto manca uno chieda a nettuno se ha consigliato ad un amico un antennista per fare il double setup io qua c'era un antennista un antennista un antennista è una battuta è una battuta o è una battuta o io non non la so non la non lo so 100 patatine guarda che se io non sto capendo niente mi raccomando mister nicola ma io sto cercando di fare le cose la voglia vedere carica ma con un bel entusiasmo fuori stronzo scontro finale god dov'è l'ultimo oh è la madonna io spero che tua madre te lo infila nel culo quel martello stasera quando torni a casa pezzo di merda mancano sei trofei signori oh no si vedo gente che comincia a mettere giù ci sta ci sta no è corretto è corretto è corretto è corretto faccio cagare faccio cagare è corretto ok ci sto facciamo una prida brawl star brawl cazzo di calcio andiamo no sono cattivi l'errore è stato mio questi capelli che vanno invece a cazzi loro non mi piace zero irritazione ho fatto così con la pelle a secco la scuola da barba mi ha fatto la barba mi sono un po' stupito però ve l'ho sempre detto ragazzi Gillette non c'ha bisogno di farsi le marchettate per vendere la roba tranquilli è pura informazione quella che state vedendo nessuno vi dice andate comprate fate però io vi dico provato sulla mia pelle è tanta roba mentality come il ragazzo che mi ha scritto la cosa del cab tre blower rimanenti allora molto bene molto benissimo ok ok buono super clean super clean vado vado a far casino nice let's go non era una mossa giusta vooral vado a me sali vado a venne odio odio oh di cosa è morto però pure i leri e lori come cazzo si chiamano f***a fa veramente male e lo so ma non lo faccio perché so stronzo questo è cristo di dio e e cristo di dio questo che cazzo di colpi a come fa o diaz ma vai a fare in culo suai che ti pisci in testa e ti cago in culo è tutta la tua famiglia di falliti i poveracci di merda dopo live mi scopo la mamma di suoi bella tutti ragazzi sono qui in compagnia di un personaggio che conoscete sicuramente e non solo non è un caso insieme a me anche il nuovissimo set in base delle magic espansione signore degli anelli come vedete ragazzi è uscito oggi e contiene due mazzi perfetti per iniziare a giocare se non siete tanto bravi o se volete avvicinarvi a questo mal vi invito a provarlo e a scoprire tutte le potenzialità e ovviamente a seguire la pagina di magic italia tu devi seguire non so perché il ganja al parli come se fosse un che babbaro andiamo a vincere questa partita forza ha mai fatto una mar... easy mica quando tu eri alla ulti è troppo figo dentro con Grom oh cazzo eh devo ancora un attimì ad abituarmi a muovere bene image easy è troppo forte Grom grazie no